Buonasera a tutti. Allora diamo lettura del bollettino di oggi, incominciando dal numero dei guariti che sono 116 oggi quindi il numero complessivo dei guariti passa a 276, il numero dei deceduti è 28, 17 in Lombardia, 5 in Emilia Romagna, 2 nelle Marche, 3 nel Veneto, 1 in Puglia. Il totale dei positivi è 2.703, di questi 1.064 sono in isolamento domiciliare, 1.344 sono ricoverati con sintomi e 295 sono in terapia intensiva. Il dato complessivo delle regioni che sono maggiormente affette dal coronavirus è di 1.497 positivi in Lombardia pari al 55% del totale, 516 in Emilia Romagna pari al 19% del totale, in Veneto 345 pari al 12% del totale. Il resto è distribuito tra tutte le altre regioni del nostro paese. I dati relativi anche alle forze in campo, noi oggi registriamo più di 2.160 uomini che sono impegnati nelle attività. Oggi voglio menzionare anche i colleghi del Dipartimento della Protezione Civile perché questo Dipartimento è impegnato con oltre 345 unità per le attività di coordinamento a livello centrale del Comitato Operativo. 656 sono i funzionari e il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia e circa 1.000 per l'esattezza 946 sono i volontari e le volontarie. Voglio ringraziare in modo particolare i nostri volontari che ormai da più di un mese sono impegnati in numeri cospicui per supportare le attività di soccorso e assistenza della popolazione. È cresciuto il numero delle tende destinate al pre-triage, sono 355. Stiamo lavorando sul sistema dell'assistenza sanitaria. Le regioni stanno potenziando, come sapete, l'offerta di posti per la cura e il ricovero anche in terapia intensiva. Noi abbiamo attivato il meccanismo della CROSS, la centrale remota di soccorso sanitario, che è una centrale che si attiva e ancora non si è attivata in caso di emergenze. L'attivazione avviene quando sul territorio regionale non ci sono posti disponibili e quindi bisogna ricorrere al resto delle altre regioni, quindi a posti disponibili sulle altre regioni. Quindi ancora oggi il dato confortante è che i sistemi regionali della sanità hanno garantito tutta l'assistenza di cui ce n'era bisogno. Io mi fermo qui, do spazio alle vostre domande, prego. Buonasera dottore, io insisto su una cosa, se mi permette, perché sembra che il dottor Cilesi sia il primo caso di morte di coronavirus in Italia. Non aveva patologie pregresse a quanto sembra, non so se poi lei ha avuto modo di approfondire. Vorrei, se lei può, darci questo chiarimento in merito. Ci sarebbero tantissime domande da farle, un'altra ne faccio solo due così lascio modo ai colleghi di fargliene. Se avete deciso sulla zona rossa. Allora, riguardo al dottor Cinesi, io non ho avuto notizie perché ho chiesto anche oggi pomeriggio al professor Brusaferro, quindi chiederò e appena avrò notizie ve le darò. Sulla zona rossa io non ho aggiornamenti sulla decisione, quindi su questo non vi posso rispondere. Appena avrò gli aggiornamenti ve li fornirò. Sì, osserviamo che praticamente negli ultimi giorni il tasso di crescita di decessi e di persone in terapia intensiva è intorno al 30, 40, 25, 30, 40%. Lei ha detto i sistemi regionali stanno reggendo per adesso, ma in proiezione per quanto tempo ancora possono reggere i sistemi regionali e quali e quante strutture state implementando per far fronte a questa emergenza che sembra arrivare a giorni? Io le dico, sulle percentuali non so come intendiamo, se lo intendiamo rispetto al giorno precedente, l'incremento e il delta. Comunque io lo farei rispetto al totale degli ammalati e quindi vi posso dire che il totale dei deceduti è il 3,47% del totale delle persone che sono contagiate dal virus, come l'8,94% del totale delle persone che sono guarite. Il potenziamento delle strutture è un potenziamento che sta avvenendo attraverso un piano che il Ministero della Salute insieme con i Dipartimenti di Sanità, gli Assessorati alla Sanità delle Regioni stanno mettendo in atto. Quindi io i dettagli qui non ce li ho ma è un'attività che è coordinata e non può che essere tale dal Ministero della Salute e sul campo operata dalle stesse regioni. Quindi quello che è il coordinamento che più mi pertiene è il coordinamento relativo al concorso del sistema della protezione civile, che è al sistema della sanità, al sistema sanitario delle regioni. Prego. Volevo fare una precisazione. Oggi a Hong Kong c'è un secondo caso di animale, nello specifico un cane ammalato di coronavirus. Mi dispiace che non ci sia l'esperto in questo caso, però volevo capire se ne saprate di più o se quantomeno nei piani che avete a disposizione c'è anche uno scenario che preveda la trasmissione da uomo ad animale perché lì aprirebbe tutto un altro ragionamento. Allora, io so quanto sa lei, chiederemo anche ai nostri esperti, magari domani quando sarò qui e sarò accompagnato dagli esperti ci potranno dare delle indicazioni di carattere scientifico, su questo io non riesco a darvi un'informazione. Io non ne ho parlato ma c'è un comitato tecnico scientifico però a me non è giunta comunicazione di discussione di questa questione quindi adesso domani vedremo e quando verranno qui gli esperti farete e faremo le domande anche noi agli esperti. Mi sentite? Rispetto alla decisione che sembra aver preso ormai il governo sulla chiusura delle scuole e delle università lei, vogliamo sapere una sua opinione insomma in merito? Allora io sono in attesa delle decisioni del governo, è chiaro che le decisioni che saranno prese dal governo saranno quelle più appropriate per fronteggiare l'emergenza. Ci sono una serie di regole di prudenza, di cautela che dal primo giorno abbiamo adottato ci sono state misure adeguate e proporzionate rispetto alla situazione e dovremo abituarci anche ad avere eventuali misure nuove e diverse rispetto a quelle pregresse. Il tutto dipende, come sappiamo, dalla situazione nella quale ci troviamo come potremmo trovarci a fine settimana perché gli esperti ci hanno detto che per vedere gli effetti della chiusura delle aree rosse avremmo dovuto aspettare il passaggio del periodo dei 14 giorni perché insomma il dato che si presume che siano persone che si siano contagiate precedentemente alla chiusura della zona rossa ma queste sono valutazioni che stanno facendo in particolar modo gli istituti superiore della sanità e gli epidemiologi che ci potranno dire sulla base dei loro dati statistici, ne parlavo con il professor Brusaferri, oggi hanno elaborato una serie di indicatori che saranno utili per comprendere l'avanzamento del virus e la situazione in atto. Buonasera, io volevo fare una domanda proprio per le signore di una certa età che stanno a casa, che possono essere le nostre mamme, le nostre nonne, che ci chiedono cosa dobbiamo fare, noi non ovviamente chi abita al nord e quindi già sa che è la situazione magari un po' più complicata, ma chi sta al centro sud, che mi chiedono proprio ma noi possiamo andare a fare la spesa? Abbiamo 80 anni, dobbiamo stare chiusi in casa, posso chiamare la badante, posso far fare le pulizie in casa? Ecco, sono proprio domande semplici che vorrei... Sì, io credo che in questa situazione nella quale c'è una trasmissione del virus con le modalità che conosciamo tutti, quello che è consigliabile per le persone più fragile, delle persone che hanno un'età adulta, quello di contenere al massimo le uscite e le occasioni di contatto, di frequentazione di persone che quindi luoghi affollati, persone che possono essere sintomatiche, contatti anche, lo abbiamo detto già da qualche giorno, di evitare la stretta di mano, gli abbracci, gli abbracci. Si tratta di cautele che dobbiamo adottare per cercare di evitare il contagio e quindi un minimo di cautele. Mi auguro che presto e sono convinto che presto passerà questa situazione e potremo tornare alle nostre abitudini usuali. No, io non so qual è il periodo che ci si prospetta davanti. Certo è che noi dovremmo incominciare a immaginare e vedere gli effetti sulla base delle tempistiche che avremo davanti e dei dati che riscontreremo. Credo che su questo tutti quanti siamo stati convinti e siamo convinti che i dati che noi oggi finora abbiamo sono i dati che non consentono agli scienziati e fare delle valutazioni realistiche o molto probabili. Sì, abbiamo detto che sono deceduti 17, molti ultrasettantenni ce ne sono 9 con meno di 80 anni e il resto 8 con più di 80 anni. Bene, allora se non ci sono altre domande vi saluto qui e ci vediamo domani pomeriggio. Grazie. Scusate, 28, 17 è Lombardia, correggo. Quindi 9 e il resto sono ultraottantenni. Grazie. Grazie a tutti.